Ben trovati amici telespettatori di Cilento Channel, siamo qui nell'azienda M Greco come ogni anno, come ogni Natale per visitare questa splendida realtà cilentana, l'orgoglio del Cilento. Prodotti tipici, realizzati da persone del luogo e sono con il titolare Mario Greco che ci racconterà le novità di quest'anno, ma soprattutto la grande esperienza produttiva. Sì, in effetti quest'anno abbiamo lanciato alcune novità che per noi rappresentano un'integrazione di altri prodotti che già facciamo, come il croccantino e i grigli di noci ricoperte che sono una vera delizia, veramente un prodotto eccellente sia l'uno che l'altro. Questi si aggiungono a una vasta gamma di prodotti che già oggi produciamo, però si sente sempre l'esigenza di sperimentare nuovi prodotti, nuove referenze, nuove cose per il pubblico, per la gente e le persone che vengono qui da noi, numerose in questo periodo, ad acquistare i nostri prodotti. Mario, raccontaci quando è nata l'azienda M Greco. L'azienda è nata nel 1973, quando i miei genitori, mio padre, insomma, ha iniziato l'attività e in quel periodo il prodotto era realizzato in modo veramente artigianale, insomma, con delle attrezzature che all'epoca erano esistenti ma che oggi, insomma, sarebbero in disuso assolutamente. Però poi nel corso degli anni, insomma, c'è stata un'innovazione continua per quanto riguarda i macchinari e le attrezzature, per cui il prodotto si è migliorato, si è migliorato il processo, però sempre tenendo ben fermo il concetto di artigianalità dei nostri prodotti. E quindi sono più di 40 anni, insomma, che l'azienda è nata e che fortunatamente continua con lo sviluppo anche di nuovi prodotti. È iniziata con la frutta secca, in particolare i fichi del Cilento, e poi chiaramente, insomma, nel corso del tempo abbiamo ampliato la gamma di prodotti perché si sentiva l'esigenza di ampliare, appunto, di inserire nuovi prodotti e nuovi articoli per i nostri clienti. E ricordiamo i negozi che sono ad Agropoli, a Capaccio, qui a Montecorice, in località Fornelli. Quante varietà di prodotti riuscite a realizzare? Quindi una infinità di assaggi, giusto? Tutti diversi? Sì, in effetti noi abbiamo in assortimento circa 50 prodotti differenti. Veramente c'è una vasta gamma di articoli, per cui, insomma, pericolosi c'è ampia scelta. Però c'è un'esigenza, c'è una richiesta e quindi di conseguenza si cerca di ampliare, appunto, la nostra gamma, insomma, perché c'è proprio un'esigenza di novità. Ecco, allora noi con Mario Greco vi salutiamo, vi facciamo gli auguri di un buon Natale, di buone feste e vi invitiamo ad assaggiare questi prodotti, magari anche con tantissimi pacchi regalo, perché sono anche graditi, no? Certo, infatti tanti clienti, tante persone scelgono di regalare agli amici delle nostre confezioni assortite con vari prodotti dove appunto il consumatore finale, il destinatario finale trova più cose e quindi nel pacco ci sono più cose e quindi sa già più cose ed è più contento. Grazie, veniteci a trovare.